Dichiarazione di Mauro Alboresi, segretario nazionale PC, su Pisapia. Dicembre 7, 2016. Italia. Di ufficio stampa. Prendiamo atto che Pisapia, dopo aver brillato per il suo sostegno alla controriforma costituzionale, si propone quale costruttore della sinistra unita e, per di più alleata, con Renzi. Temiamo, però, che l'ex sindaco di Milano non abbia capito cosa è successo il 4 dicembre. Legando fortemente la difesa della Costituzione ad obiettivi di giustizia e di eguaglianza, il popolo italiano ha mantenuto la carta costituzionale ed ha mandato a Cassa Renzi e il suo governo. Ha detto uno chiaro e forte a politiche che hanno impoverito il paese e reso ancor più laceranti le disuguaglianze. Per questo quella di Pisapia ci appare come una proposta vecchia, superata e del tutto improponibile. www.ilpartitocomunistaitaliano.it